Non è che abbiamo giocato molto bene oggi, veramente il primo tempo la squadra era disegnata male, nel secondo c'è stato un momento nel quale sembrava che la pressione potesse portare a qualche risultato positivo, però insomma grandi occasioni non l'abbiamo avuta. Pareggio giusto, speravo meglio francamente dopo mercoledì. Ci si aspettava un po' di più da questa giornata? Un po' di più senz'altro, però lo sport è sport. L'arbitro non è che ci abbia aiutato tanto questa cirata, insomma si sviluppava forse qualcosina di più. Com'è andata? Male perché si doveva vincere, deve essere tutte finali ora, tutte. Primo tempo scandaloso, inguardabile, secondo tempo un po' meglio, si è sperato fino alla fine della vittoria ma non ci si è fatta, purtroppo. Andrà meglio la prossima, vai. Piontek è stato bravo, io dico una cosa, che alla fine del campionato Piontek farà più gol, se non si fa male, di Vlaovic. Questo guardate ve lo dico, ricordatevi perché oggi poteva fare addirittura una doppietta, lasciamo fare, si poteva fare meglio. Si è regalato un tempo e sicuramente era meglio se si metteva da subito un altro, piuttosto che saponare, sicuramente entra meglio nel gioco quando gli altri sono più stanchi, molto tecnico ma molto lento rispetto a gli altri. Si è sbagliato dei gol però ci sta. Comunque il Verona è una squadra ostica, ci stanno sotto in classifica, quindi è importante che loro non abbiano preso punti, anche se anche noi si poteva fare di meglio. Squadra che deve crescere e deve crescere anche l'allenatore.